Io faccio la differenza perché cerco di divulgare il valore della cultura e il valore della scienza e cerco di aiutare i giovani fornendogli degli strumenti, una bussola, per cercare di comprendere la realtà di oggi che è sempre più complicata e difficile da afferrare. Ho scelto Make the Difference perché è un progetto molto interessante, molto utile, si rivolge ai ragazzi e ai giovani e credo che sia importante che loro sappiano che cosa fa la differenza per loro per poter costruire il loro futuro.